Il film del Procione Nel terzo film di Procione e i suoi amici Dopo la serie su Netflix Sta dicendo che non avrà mai un film suo Oh mio film Non tutti avranno un proprio film Questo franchise fa schifo Timmy aveva ragione Dovremmo iniziare con il film di Tupperware Iniziamo con un supereroe nero La Marvel ha fatto un film così Sì, adesso Hanno aspettato anni per farlo Seguiamo il loro piano Prima mettiamo le persone vere E Nero nella fase 3 Ma il nostro piano deve comprendere più cose Ehi ragazzi Per me dovremmo iniziare la serie con il nero E una ragazza come eroi Tutti penseranno che siamo fantastici e... Ehi adesso basta Che c'è? Non dire una ragazza e un nero Solo per metterti la coscienza in pace Non lo dico per questo Ok JJ Abrams Ah così stai dalla parte di Cartman? Io sono per iniziare con il personaggio migliore Non quello che piace al pubblico E Tupperware non ha il personaggio migliore Fanculo o meglio di Aquilon Man Gli piace questo piano perché ha due film nella fase 1 Ragazzi Dobbiamo seguire questo piano Ancora non abbiamo neanche un film Tu segui il tuo piano se vuoi Noi facciamo un franchise nostro Sì Oh volete la guerra civile o sbaglio? Sì guerra civile Vottiti Va a fare in culo lontano da casa mia Faremo più soldi con il nostro piano Alla DC Comics non arriverete neanche a metà strada Con il vostro piano La guerra civile non doveva esserci solo nella fase 3 Zitto Super Craig SIGLA Grazie per la visione!